Bella piccio qui Flo e benvenuti di nuovo sul mio canale Oggi siamo qui con un nuovo episodio del Potential Upgrades Se volete guardarvi l'episodio precedente troverete il link della playlist nella description box Quindi iniziamo subito con una delle più grandi rilevazioni della Bundesliga Cioè Okazaki giapponese che attualmente gioca nel Mainz Che è entrato nel cuore dei tifosi perché ha segnato ben 6 gol E attualmente è il capocannoniere insieme a Meyer, Müller, Di Santo e Govens Ma adesso passiamo alle statistiche Passerebbe da una votazione totale da 78 a 80 Un più 2 nelle velocità Un più 4 nel tiro Volevo restare sotto l'80 di tiro perché credo che sia il valore più realistico Un più 2 nel passaggio Un più 1 nel dribbling La difesa l'ho lasciata invariata perché non è tutto il suo fenomeno in difesa E per concludere un più 2 nel fisico Il prossimo giocatore è un attaccante che ha già fatto innamorare mezza Europa Cioè Carlo Sbacca Colombiano che attualmente gioca nel Siviglia Già l'anno scorso aveva fatto bene Però quest'anno è davvero scatenato Ben 7 gol e come per la VV E a pari gol commessi Infatti anche Barcellona ha messo gli occhi sul giocatore colombiano Ma adesso passiamo alle sue statistiche E non avrebbe questo upgrade così corposo Perché lui è già un bello 82 la votazione totale Comunque passerebbe da un 81 a un 82 Quindi gli darei un più 1 nella velocità Un più 2 nel tiro perché è davvero un tiro notevole Un più 2 nel passaggio Un più 2 nel dribbling perché nella realtà la skill è abbastanza bene La difesa avresta invariata un più 2 nel fisico Chiudiamo l'episodio con un italiano E cioè con Graziano Pellè Quest'anno sta facendo benissimo Ha fatto 6 gol in Premier League Ha debuttato in Nazionale segnando anche un gol Finalmente quest'anno sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore Soprattutto molto sottovalutato Dalle critiche in generale Perché molti lo definivano Forte sono in Olanda Vabbè i soliti giornalisti Cabroni italiani Comunque gli darei un più 4 nella velocità Raggiungerebbe l'80 la votazione totale Un bel più 4 nel tiro perché posso assicurare che ha un tiro strepitoso Un più 1 nel passaggio Un più 4 anche nel dribbling Un più 2 nella difesa E un più 3 nella forza fisica Anche se gli vorrei dare molto di più Ma voglio tenermi su parametri molto bassi Comunque anche per oggi è tutto Forse dopo questo video non vedete video almeno per una settimana Perché devo formattare il pc Quindi non avrò i mezzi per fare i video Io come sempre vi invito a lasciare un like al video E la pagina FIFA Ultimate Team ETA Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto Un saluto da Fro Bella Grazie a tutti